Manu Gonzalez, ci tenevate a onorare al meglio questa competizione, anche un modo per mettervi in discussione con le vincenti degli altri gironi, insomma una partita che non è stata mai in discussione, forse solo il rammarico di non essere riuscito a sbloccare il primo tempo. Sì, è sempre velo vincere, è sempre buono penso, per tutti, quindi ci tenevamo, abbiamo passato il turno, ora andremo insieme ai finali. Sì, assolutamente, insomma ti faccio i complimenti perché durante la stagione non è stato facile, un periodo si è stato anche fuori, insomma dalle rotazioni, però ti sei sempre fatto trovare pronto, forse è stato proprio questo il merito di questo gruppo, ho visto ragazzi che hanno giocato in meno, dare il massimo, e questo sicuramente va dato atto alla professionalità di un gruppo. Sì, questa secondo me è stata la grandissima differenza che ci ha fatto vincere, la coesione del gruppo che in tutto l'anno, anche se personalmente magari qualcuno andava in difficoltà, non ho sentito mai lamentarsi nessuno, questo secondo me ci ha portato a ottenere grandi risultati. C'è stata anche la premiazione finale, insomma il giusto riconoscimento, insomma c'è stata questa coppa con Capitano Nonni che assente per infortunio però resta il capitano effettivo della squadra. Sì, sì, l'aspettavamo, è sempre bello, dai, un modo di chiudere, una grandissima impressa che abbiamo fatto tutti insieme. A questo punto, insomma, l'appetito viene mangiando, c'è questa doppia sfida, C'è una gente, c'è voglia di andare avanti e di chiudere al meglio anche questa competizione? Certo, certo, noi cercheremo di andare avanti fino alla fine, l'obiettivo ora è portare che il campo basso possa avere l'anno prossimo lo scudetto sulla maglia.